Musica Un cordiale saluto a tutti voi da Sara Zambon, ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione dalla Lombardia di One TV News. La sera di sabato scorso, 29 giugno, un gruppo di persone ha circondato e minacciato due agenti della Polizia di Stato di Rò che stazionavano davanti ad un bar in Via Meda. Sono intervenute altre pattuglie a supporto per placare gli animi e portare tutti in commissariato. La Polizia ha subito avviato la procedura per la chiusura dell'attività e sono stati dati i fogli di via obbligatori ad alcuni dei presenti. Confermata contestualmente anche l'intenzione di intensificare il controllo in zona stazione in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Agli agenti coinvolti va la mia più totale solidarietà e vicinanza, ha dichiarato il sindaco rodense Andrea Orlandi. Continuiamo a contare su di loro, anche sulle altre forze dell'ordine e sulla Polizia Locale, perché la Rò che vogliamo è ben diversa da quella che ora si vuole dipingere. L'impegno di tutti sarà ancora più intenso. Domenica mattina invece due ufficiali del Comando di Polizia Locale di Castano Primo e Nosate sono intervenuti in via Montegrappa, dove i residenti avevano segnalato la presenza di alcune persone sospette. Giunti sul posto, i poliziotti locali hanno effettivamente individuato due soggetti in evidente stato d'ebbrezza e li hanno accompagnati presso il locale comando. Dopo le operazioni di identificazione, i due uomini sono stati multati in base al regolamento vigente di Polizia Urbana. Si tratta di stranieri di origine sudamericana che erano revici da una notte di festa in cui avevano evidentemente alzato un po' troppo il gomito, tanto da non essere più in grado di far rientro alle proprie abitazioni. Passata alla sbornia, si sono scusati per il loro comportamento molesto e hanno conciliato la sanzione pecuniaria a loro combinata. Stop ai mezzi pesanti tra il Sempione e la frazione di Passirana di Rò. Andrà infatti in vigore l'ordinanza per limitare il passaggio di tir e veicoli a venti massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in entrambi le direzioni di marcia nel tratto di strada compreso tra la strada statale del Sempione, numero 33, e la rotatoria Settembrini-Sirtori-Valera. Questo provvedimento è stato adottato in seguito all'apertura della nuova via Lainate e del nuovo casello autostradale lainatese che permette ai mezzi pesanti di accedere all'autostrada e al Sempione seguendo percorsi alternativi meno impattanti per i residenti della frazione. Lo scopo quindi è limitare il transito dei mezzi pesanti che con il loro passaggio quotidiano creano disagi ai residenti e migliorare nel contempo la sicurezza per gli studenti del liceo scientifico, oltre che alleggerire la circolazione veicolare in generale. Il provvedimento sarà reso operativo mediante l'installazione di adeguata segnaletica verticale. La Polizia Locale effettuerà comunque dei controlli per il rispetto dell'ordinanza. Sono esclusi dal blocco gli autobus del trasporto pubblico. I mezzi diretti nella zona industriale di via Sirtori dovranno entrare e uscire da via Valera. Per i mezzi pesanti in transito, non diretti o provenienti dall'ambito interessato, sono possibili altri itinerari che sfruttano la viabilità principale di collegamento tra l'autostrada A8 e la statale 33. Il 3, 4 e 5 di ottobre Brescia, dopo essere stata capitale della cultura italiana, diventerà capitale dell'orientamento. Al Brixia Forum infatti si svolgerà Smart Future Academy, che nel 2023 aveva visto la presenza di 14.000 giovani, il 55% in più rispetto all'anno precedente, e che per il 2024 è giunto alla sua ottava edizione. Smart Future Academy è più di un appuntamento. È un appuntamento importante che guiderà i nostri ragazzi attraverso l'orientamento. È un tema nel quale noi crediamo tantissimo, nel quale stiamo investendo, a partire soprattutto dalle scuole medie, quindi partendo sempre di più da un'età molto più bassa rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi. per accompagnare i nostri ragazzi verso l'innovazione, verso il futuro, verso il mondo del lavoro, verso lo sviluppo delle competenze, per renderli protagonisti del loro futuro. Sarà una tre giorni straordinaria, ricca di speech, di testimonianze, di esempi, di laboratori interattivi. Saranno tre giorni molto dinamici, quindi un format assolutamente innovativo. Partiremo dalle scuole medie, quindi da un'età sempre più bassa, per accompagnare i nostri ragazzi nel capire quali sono le loro passioni, nel coltivare i propri talenti ed essere un valore aggiunto per la società, il mondo del lavoro che è pronto ad accoglierli. Smart Future Academy è un'associazione no profit che organizza eventi per i ragazzi delle superiori, dall'anno scorso anche per i ragazzi delle medie, e dal prossimo evento Brescia 24 sarà anche per i ragazzi diplomati, laureandi, laureati, con lo scopo di ispirarli nel loro futuro. È un progetto di orientamento, quindi attraverso l'ascolto di storie, di personaggi di successo, possono trovare ispirazione. Il personaggio trasmette la passione che ha per il suo lavoro, per la sua professione, e quindi di conseguenza può ispirare un ragazzo. Per ora solo di venerdì sera, ma l'intenzione è quella di ampliare il servizio anche ad altri momenti della settimana. Si tratta di controllo e presenza lungo l'alzaia del canale Villoresi, che sono le nuove attività messe in campo della protezione civile di Castano I, come ci racconta in questo servizio il nostro Alessio Belleri. Avanti Sara! Protezione civile impegnata lungo le sponde del canale Villoresi, che cosa fate qua? Sì, diciamo che questa è una nuova iniziativa che è stata promossa anche dal Comune. Entriamo a controllare adesso struttura. Il nostro non è un servizio di polizia o di vigilanza, è soltanto un modo di controllo del territorio, per evitare che magari ci siano, non lo so, dei gruppi di ragazzi che magari possano spaccare delle cose. Premetto che non intervereremmo in quel caso lì direttamente, ma chiameremmo il 112 o chi di competenza. C'è un'attività per il patrullamento in testo struttura, non darli a recuperare. In occasione del 160esimo anniversario di fondazione della Croce Rossa, il nostro Giovanni Padalino ha incontrato il presidente della sezione di Borgo Manero, Luca Faetti. Sabato 29 giugno, per festeggiare i 160 anni della Croce Rossa, i volontari della sezione di Borgo Manero si sono riuniti in Piazza Martiri. Proprio qui, nel centro cittadino, sono stati esposti vari mezzi di soccorso, presentati progetti di educazione e sicurezza stradale, e soprattutto organizzati corsi di primo soccorso, come quello pediatrico, avvenuto all'interno del municipio. Piazza per far vedere a tutta la popolazione quello che è la Croce Rossa da 160 anni. in questa parte, portando tutte quelle che sono le nostre attività, e tutti quelli che sono i nostri progetti futuri per i 32 comuni che copriamo come Comitato di Borgo Manero. È da un mese che abbiamo preso in carica il nuovo consiglio, gli obiettivi sono tanti e cerchiamo di portarli avanti con tutti i giovani e i meno giovani che ci stanno supportando all'interno del Comitato. La giunta regionale Lombarda ha stanziato 120.000 euro per il centro geofisico prealpino di Varese, con l'obiettivo di assicurare la continuità delle attività di rilevante valore scientifico anche in ambito sismico e di previsione meteorologica. La delibera approvata è stata proposta dall'assessore alla sicurezza e protezione civile Romano Larussa, di concerto con l'assessore all'ambiente e clima Giorgio Maione. Il centro geofisico prealpino ha sede nella Dacia di Villa Baragiola, sopra Varese, e svolge importanti attività di monitoraggio, previsione e prevenzione. Gestisce numerose stazioni meteorologiche e un sensore della rete di sorveglianza sismica in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e i fondi saranno erogati da ARPA Lombardia. Risorse utili, ha detto l'assessore Larussa, per una realtà di eccellenza. Questo finanziamento rappresenta un impegno concreto della Giunta regionale per garantire la continuità delle attività nel monitoraggio sismico e meteorologico fondamentali per la sicurezza e la protezione del nostro territorio. Il centro geofisico prealpino svolge un ruolo cruciale nella prevenzione e nella previsione di eventi naturali. Il loro lavoro non solo arricchisce il patrimonio scientifico della nostra regione, ma fornisce anche dati e analisi indispensabili per la protezione civile e la salvaguardia dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello di continuare a supportare e potenziare le attività del centro garantendo sempre un altissimo livello di competenza e professionalità. Non c'è tutela ambientale, ha concluso l'assessore Maione, senza supporto dei dati scientifici. Per questo la regione investe in ricerca e nella tutela di realtà di eccellenza come il centro geofisico prealpino. In un'epoca di cambiamenti climatici il lavoro di questo centro è fondamentale anche per informare in tempo reale istituzioni e cittadinanza. Nasce in Lombardia il primo tavolo congiunto fra istituzioni, pediatri, società scientifiche, operatori della filiera ed esperti per tracciare le linee guida di un modello di alimentazione a misura di bambino da 0 a 3 anni all'insegna del Made in Italy. È necessario abbinare degli stili di vita fondamentali, l'esercizio fisico, la buona alimentazione e farlo da subito, ecco perché ancora oggi ci sono delle distorsioni, per esempio il fatto che nelle scuole ci siano delle mense che forniscono del cibo che rispetta questi principi mentre negli esercizi in nido questo non avviene, ecco bisogna cercare di uniformare per far sì che i bambini fin dal primo giorno possano essere accompagnati in questi principi. La prevenzione ormai è uno degli elementi fondamentali per la medicina del presente e sempre di più del futuro. Io credo che soltanto facendo una efficace prevenzione si potrà riuscire ad affrontare una medicina che riesce a mantenere e a curare così tante persone sempre più anziane, quindi soltanto la prevenzione può consentire di avere una vita futura migliore, con meno patologie e più controllabile. La prevenzione è la base di tutto e quindi dobbiamo cercare di cominciare fin dall'inizio. Abbiamo immaginato di mettere intorno a un tavolo i migliori per indicarci quali sono le modalità di alimentazione migliore, non solamente per i giovani, gli studenti delle scuole elementari o delle scuole medie, ma proprio partendo dai primi mesi di vita, anche perché negli asili nido oggi non c'è una indicazione precisa su quella che deve essere l'alimentazione più corretta. Con le nostre linee guida non vogliamo andare a imporre niente a nessuno, però vogliamo suggerire percorsi virtuosi alimentari da utilizzare per i piccolini, in modo che poi anche questo tipo di abitudine i genitori li conoscano, li apprendano anche portando i propri figli agli asili nido e questo significa partire dall'inizio con uno stile di vita il più corretto possibile, il più sano possibile, che ti dà delle prospettive poi successive molto migliori e da un punto di vista anche della qualità della vita sicuramente molto più interessanti. Tutte le anime della pediatria, gli universitari, gli ospedalieri, i pediatri di famiglia che lavorano sul territorio insieme alle istituzioni e ringraziamo la grande istituzione Regione Lombardia che ci ha proprio ospitato in questa sede, ma anche come simbolo di un grande rapporto che deve essere integrato con tutti gli altri attori, con le filiere, con le aziende che producono prodotti alimentari per i bambini, garantendo per il bambino, soprattutto nelle sue prime fasi, di vita la esigenza nutrizionale che il bambino richiede, ma nell'ambito di una completa sicurezza nutrizionale. I pediatri sono ben contenti di partecipare a questo progetto perché il coinvolgimento diretto di tutti gli operatori è il modo migliore per raggiungere tutti insieme l'obiettivo. Regione Lombardia oggi è una bella giornata di eccellenza a livello nazionale in quanto sono caduti gli approcci a silos. Le istituzioni che insieme alla classe scientifica, alle aziende, ai giovani professionisti, ai responsabili della filiera produttiva di questo paese, col diretti figli d'Italia, hanno deciso di scendere in campo per tutt'ora del bambino. Quindi è una giornata in cui il bambino viene messo al centro e la sua famiglia e occuparsi anche di quello che è il mondo della ristorazione scolastica. Quindi oggi in Lombardia abbiamo ascoltato che nasce un tavolo tecnico regionale che sarà un modello molto probabilmente per tutto il paese per far sì che anche i bambini negli asidi nido abbiano una ristorazione adeguata con prodotti a chilometro zero e che molto probabilmente anche i bambini 0-3 anni possano mangiare italiano. E per questa edizione ci fermiamo qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ridò l'appuntamento per domani sera, sempre alla stessa ora e sempre sul canale 79 del Digitale Terrestre per una nostra nuova edizione di informazione locale. Non mi resta che augurarvi quindi buona serata e buon proseguimento di programmi, sempre in compagnia di One TV. Grazie a tutti.